esagera e chi è se provo io cado lo so già che cado ok ok ma come abbassi bene il culo ma come abbassi bene l'effetto dell'alcol arriva ma arriva sempre sì sì poi basta paura paura sputto anche eh buono quel roba lì sì eh e l'altro tenervit bravo ok o Come? 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 L'effetto dell'amaro, l'amaro del presidente, fa un effetto stridente, e al Francesco gli fa un brutto effetto? Ma gli fa un brutto? Ma gli fa un brutto effetto? L'amaro gli fa un brutto effetto? Ma gli fa un brutto effetto? E com'è il gatto Silvestro? Vai! Vai Silvestro! 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 Lui l'ha fatto Lui l'ha fatto